Stasera alle 20.30 il Crasse scenderà in campo al Palamazola contro il Lattes Montpellier nella fase di ritorno del girone C di Eurolega. La squadra di Ricchini cercherà la rimonta per accedere agli ottavi di finale da cui attualmente fuori per il ritardo di due punti dall'ultima posizione occupata dal Cosize. Per battere le francesi ci vogliono agonismo e intelligenza tattica, dichiarato il CT della Nazionale che non potrà disporre di Michel Greco, ferma per una contrattura al bicipite femorale destro. La fascite plantare impone lo stop anche a Dacici, almeno per un mese.